Due uomini e una donna di nazionalità rumena e con domicilio a Mineo sono stati fermati dai carabinieri della stazione locale per furto aggravato ad essere stati rubati 400 kg di arance raccolti furtivamente in un terreno privato nei pressi di Contrada Giampaolo. Un fenomeno, quello del furto delle arance, è frequente nel territorio siciliano proprio per combatterlo e le forze dell'ordine intensificano le loro operazioni di controllo nel periodo di raccolta della produzione agrumicola. Durante uno di questi controlli i carabinieri della stazione di Mineo hanno quindi beccato la donna e i due uomini mentre caricavano i sacchi colmi di arance appena raccolte in un furgone. A cortisi della presenza dei militari i tre hanno tentato la fuga ma dopo un breve inseguimento sono stati fermati. Perquisito il mezzo sono stati trovati al suo interno oltre agli agrumi rubati e disposti in sacchi per un quantitativo di circa 400 kg, gli arnesi utilizzati per compiere il furto tra i quali una sega da potatura nascosti sotto il sedile anteriore lato passeggero. Il giudice ha applicato la misura degli arresti domiciliari per uno di loro, gli altri due invece sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. Le arance è oggetto di re furtiva, sono invece state consegnate al legittimo proprietario.